Salve a tutti e benvenuti. In questa quarta lezione sulla filosofia di Pascal esamineremo la teologia e la morale, ovvero esamineremo l'indagine con cui Pascal mira a dimostrare che né in ambito religioso, e quindi nel campo proprio della teologia, né per quanto riguarda le regole e i valori dell'agire politico e morale, sia possibile, per la ragione umana, trovare un fondamento assoluto e dare una risposta a quello che è il problema sul senso dell'esistenza umana. Per esaminare questi problemi utilizzeremo queste presentazioni che ho preparato. Bene, per quanto riguarda la teologia, essa rappresenta forse la massima espressione della filosofia, cioè dell'applicazione della ragione all'ambito dello studio dell'essere, dell'essere perfettissimo in questo caso, e la filosofia ha, in quanto teologia, al suo centro il problema di Dio. Forse, da questo punto di vista, la sfida più elevata che la teologia sia trovata di fronte è la dimostrazione dell'esistenza di Dio, quindi individuare delle procedure razionali con le quali sia possibile dimostrare in modo necessario l'esistenza di Dio. E' la massima sfida intrapresa dalla filosofia. Ma tutte le prove metafisiche che la tradizione da Platone, da Aristotele in poi, è andata proponendo, sono, secondo Pascal, inconcludenti. Sono inconcludenti perché, secondo Pascal, la ragione umana non può dimostrare né l'esistenza, né l'inesistenza di Dio. Quindi la prova di Pascal sembra essere quello dell'agnosticismo in tale ambito. Questo perché? Perché in qualche modo la validità delle prove non si fonda sulla sola ragione. Sia le prove basate sulla armonia della natura da cui si dovrebbe desumere l'esistenza di una causa armonizzatrice, ordinatrice, sia quelle basate sulla causalità, come quella di Aristotele, in qualche modo non si possono reggere sulla sola ragione. Presuppongono sempre la fede. Esaminiamo dunque questo punto, conclude Pascal, Dio esiste o non esiste, ma da quale parte inclineremo? La ragione qui non può determinare nulla, c'è di mezzo un caos infinito. Quindi solo per chi già crede e già possiede quindi la fede, queste prove sono conclusive e sono evidenti. Per chi invece non ha fede, il pensiero 233 che abbiamo appena letto indica la situazione. E cioè non esistono argomenti conclusivi né da una parte, esistenza di Dio, né dall'altra, non esistenza di Dio. E la ragione da sola non è capace di districarsi da questo caos infinito. Anche se fosse possibile dimostrare razionalmente l'esistenza di Dio, il Dio di cui noi avremmo dimostrato l'esistenza è il Dio dei filosofi e degli scienziati, cioè un Dio inteso come puro ente razionale, che costruisce geometricamente il mondo, che è garanzia della conoscibilità del mondo, che è fondamento della scienza, un po' come Cartesio. Ma questo Dio dei filosofi e degli scienziati non è il Dio cristiano, non è il Dio della fede, non è il Dio della salvezza, non è il Dio che può venire incontro all'uomo, alla condizione di angoscia in cui si trova, e offrirgli una soluzione, farlo uscire dall'angoscia, offrirgli cioè la salvezza. E quindi è un Dio che è, dice Pascal, del tutto inutile per l'uomo. Il Dio cristiano è infatti il Dio di amore, il Dio di salvezza, è un Dio che dà una risposta, una risposta che non è la risposta sulla conoscenza scientifica della natura, ma che è la risposta alla domanda sul senso dell'esistenza umana. E' a questo punto, e' in questo contesto, che Pascal si scaglia contro Cartesio, non posso perdonare a Descartes, avrebbe pur voluto in tutta la sua filosofia naturale poter fare a meno di Dio, ma non ha potuto esimersi dal fargli dare un colpetto per mettere in movimento il mondo, dopodiché non sa che farsi di lui. Pascal rileva, come in Descartes, Dio costituisca semplicemente il fondamento della necessità e universalità della scienza, e che quindi abbia una valenza del tutto epistemologica, conoscitiva, l'esistenza di Dio, ma non abbia niente a che fare con il Dio cristiano. Dio cristiano che si rivela a quindi essere un Deus absconditus, cioè un Dio nascosto. Occorre capire che per Pascal la fede non è una conquista umana, non è il risultato di una ricerca razionale attraverso la quale l'uomo può giungere a ottenere la fede. La fede non può essere raggiunta né dimostrata con ragionamento, la fede non può essere il risultato della ricerca umana. Se il mondo esistesse per istruire l'uomo intorno a Dio, la divinità vi splenderebbe dappertutto in maniera incontestabile. Quel che in esso appare, quello che appare nel mondo, sottolinea Pascal, non indica né un'esclusione totale, né una presenza manifesta della divinità, ma la presenza di un Dio che si nasconde. Pascal ama i paradossi e in questo paradosso vuole appunto evidenziare come di per sé la natura, così come la ragione, non ci portino a concludere niente su Dio. Quello che la natura ci porta al massimo a scoprire, che ci porta a capire, è che Dio potrebbe esserci, ma che potrebbe anche non esserci, e quindi la presenza di un Dio che si nasconde. Dio quindi è qualcosa che si manifesta e al tempo stesso si nasconde. Non è così manifesto da non poter essere negato, né così nascosto da non poter essere affermato. Cosa intende qui Pascal? Non vi è certa evidenza dell'esistenza di Dio in natura. Ma, d'altra parte, non vi è nemmeno l'evidenza contraria. Dio non può essere né negato, quindi né affermato, ma si manifesta a chi lo cerca con la fede. Il punto è che la fede è concessa da Dio. E quindi si può arrivare attraverso la ragione, attraverso la natura, a Dio, soltanto se si possiede già la fede. Ma Dio si nasconde inesorabilmente a chi lo tenta, dice Pascal, a chi lo cerca solo con la ragione, senza alcuna fede. Non è vero che tutto riveli Dio, né che tutto lo nasconda. È vero a un tempo che gli si nasconde a coloro che lo tentano, cioè che lo cercano con la sola ragione, senza la fede, e si rivela a coloro che lo cercano, a coloro che già hanno la fede e che vanno in cerca attraverso la natura di una conferma di questa fede. Dove ci collochiamo adesso? Dove ci troviamo in questo percorso sulla filosofia di Pascal? Ricordo che Pascal, nel suo tentativo di scrivere, tentativo che non gli riuscì, un'apologia del cristianesimo, intendeva, nella prima parte di questa apologia, dimostrare il fallimento cui andava incontro la ragione nel tentativo di dare una risposta sulla domanda intorno al senso dell'esistenza e di offrire una salvezza per l'uomo, una strada per la felicità, per la certezza, per la verità. Nelle lezioni presenti abbiamo visto come in tutti gli ambiti presi in esame da Pascal non sia possibile questo. L'uomo, cioè con le sue sole forze, non riesca a pervenire alla soluzione del dilemma dell'esistenza. Nella mentalità comune Pascal esamina il divertimento, il piacere, la filosofia fallisce nel tentativo di trovare un fondamento assoluto alla conoscenza, la scienza ugualmente non riesce a giustificare il carattere assoluto della conoscenza naturale, anche la teologia, abbiamo appena visto, fallisce a limiti, si può arrivare a una forma di deismo, cioè di Dio come puro ente astratto razionale. ci rimane da vedere la morale, e cioè l'esame dell'agire e del comportamento e del tentativo della filosofia di individuare delle regole certe che definiscano ciò che è giusto e ciò che non è giusto nell'ambito politico e morale. Per spiegare questo aspetto della filosofia di Pascal mi servirò di questa presentazione, e quindi la morale e i limiti della filosofia in ambito politico e morale. Bene, religione, scienza e conoscenza, o meglio la ragione in campo religioso, in campo scientifico, in campo conoscitivo, cioè cercando di chiarire la natura umana, non riescono a dare una risposta al dilemma sul senso della vita. Anche nel campo pratico, che riguarda quindi l'agire, nel suo duplice aspetto, l'agire del singolo individuo e quindi l'ambito morale dei valori, e l'agire degli uomini in società e quindi l'ambito politico, dicevo, anche in campo pratico gli uomini nel corso dei secoli e la filosofia nel corso dei secoli non è riuscita, partendo dalla ragione, a individuare delle regole, cioè dei principi guida assoluti che potessero fondare in modo certo e necessario una scienza dell'agire nella sua duplice dimensione politica e morale. Quindi Pascal tende a dimostrare questo, cioè che è impossibile giustificare l'esistenza di un sistema di valori assoluti, dove per assoluti dobbiamo intendere valori assoluti, universali, mutabili, eterni. Quindi il bene, il giusto, il vero, il bello e così via, i cosiddetti valori che forniscono la guida all'agire umano, la ragione non è capace di stabilirli, né se li intendiamo come regole del nostro comportamento, regole dell'agire, né come regole della convivenza dal punto di vista politico e morale. Questi valori universali e immutabili rimangono al di là delle possibilità della ragione. La ragione non è in grado né di individuare questi valori, né di giustificare la loro assolutezza. Pascal sottolinea come in tale ambito domini un relativismo radicale, cioè nel corso della storia e della filosofia gli uomini hanno di volta in volta seguito valori differenti a seconda delle circostanze storiche, a seconda del contesto, in modo che non è possibile individuare nessun valore che possa essere definito assoluto. Non sono riusciti i filosofi, dice Pascal, nemmeno a fornire una definizione univqua di ciò che è il bene. Per alcuni il bene è il dominio delle passioni, per altri la guida della ragione, per altri è il piacere, per altri è... e così via. Quindi non si è riusciti a trovare un accordo nemmeno su una definizione univoca di bene. Per chiarire in cosa consiste questo relativismo dei valori è più utile leggere il pensiero 294. Non si vede nulla di giusto o di ingiusto che non muti qualità con il mutare del clima. Tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza. Un meridiano decide della verità. E cioè, se si va a vedere cosa popoli diversi e diversamente collocati nelle aree geografiche del mondo ritengono giusto, vero, bello, eccetera, scopriamo che questi valori cambiano da luogo a luogo, da popolazione a popolazione. Non solo, sottolinea Pascal, nel giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano il diritto alle sue epoche. Cioè, non solo sono diversi i valori da un paese all'altro, ma nello stesso paese, nel corso della storia, nel corso quindi dello sviluppo temporale, i valori cambiano. È ciò che prima era ritenuto giusto, in seguito viene ritenuto sbagliato. Singolare giustizia che ha per confine un fiume, verità al di qua dei Pirenei, errori al di là. Anche in questo caso, basta il confine di un fiume per segnare una differenza in ciò che si crede giusto. Il furto, l'incesto, l'uccisione dei figli o dei padri, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuose. Le parole di Pascal ricordano molto la tradizione scettica a partire dal relativismo culturale dei sofisti. Gli argomenti, le analisi di Pascal ricordano molto i ragionamenti doppi, opera anonima del IV secolo a.C., in cui vengono rilevate le stesse cose, come quindi lo stesso fatto venga considerato negativamente presso un popolo o positivamente presso un altro. Si può dire cosa più spassevole di questa? Che un uomo abbia il diritto di ammazzarmi solo perché abita sull'altra riva del fiume e il suo sovrano in lite col mio, sebbene io non lo sia con lui. Pascal conclude con l'assurdità della guerra, cioè di due persone che si uccidono senza neanche conoscersi, conoscersi perché c'è una guerra per motivi, dettata da motivi, da interessi, di ordine economico, politico, eccetera, tra i sovrani che governano quei luoghi. Ma che senso ha in Pascal questo relativismo? Il relativismo, il ricorso al dubbio, come abbiamo visto, è qualcosa di caratteristico dell'ambiente del Seicento. Si pensi al pensiero libertino, si pensi allo stesso Cartesio che usa l'argomento del dubbio. Anche in Pascal si ricorre la tradizione scettica, ma Pascal è uno scettico? Ovvero, che senso ha il relativismo di Pascal? È un relativismo che è una sorta di premessa alla fede. Cioè, il relativismo non serve a Pascal per giustificare l'anarchia dei costumi o la libertà dei costumi. non è tanto questo il punto, ma serve a Pascal per dimostrare i limiti della ragione, cioè come la ragione non sia capace nemmeno di individuare delle regole certe per guidare l'agire umano e che quindi sia necessaria la fede. Questo è il contesto corretto in cui collocare il relativismo di Pascal. Possiamo dire che la sua è una vera e propria antropologia dei costumi, seppur in modo non sistematico, attraverso una serie di osservazioni di carattere storico e antropologico, e cerca di dimostrare che quelli che vengono assunti come principi universali, come valori, beni assoluti dalla tradizione filosofica, per esempio, sia in realtà frutto di fattori che non hanno niente né di morale né di razionale, che sono quindi extramorali ed extrarazionali. Ricorrendo al testo di Pascal, per esempio, ci accorgiamo che in alcuni casi, almeno questo intende sostenere Pascal, scambiamo per giustizia ciò che in realtà è frutto di convenzione, la giustizia è quel che è stabilito, per cui i popoli scambiano quelle che sono per esempio leggi, regolamentazioni, che regolamentano l'agire e il comportamento a livello non soggiuridico, come espressione della giustizia, mentre sono semplicemente frutto di convenzione o l'abitudine che diventa una seconda natura per cui i comportamenti abituali, modi di vestire, di mangiare e così via, vengono considerati come normali, come la norma, mentre invece sono soltanto frutto di abitudine e come tali l'abitudine non può giustificare la necessità di una regola, di un valore, di un comportamento, oppure sono frutto del potere, qui Pascal è molto drastico, non essendosi potuto rendere forte la giustizia, si è giustificata la forza e cioè il fatto che siano in vigore determinate leggi che valgano determinati principi o determinati valori è in genere espressione di un gioco di potere dietro il quale stanno gli interessi di chi ha vinto una guerra o di chi detiene il potere all'interno di uno stato oppure la moda la moda determina il piacevole la moda come determina il piacevole così determina il giusto per cui si scambia per valore morale ciò che in realtà è soltanto l'effetto di una tendenza del momento come appunto il caso della moda quindi Pascal recupera senz'altro il pensiero scettico ma all'interno di quella che la sua strategia apologetica e gli intende soltanto dimostrare con quello che lui chiama il pirronismo dal nome di Pirrone l'inadeguatezza della ragione è mostrare quindi come l'uomo senza la fede non possa uscire dallo stato di confusione in cui si trova dal buio o come ho scritto qui del relativismo quindi l'unica via d'uscita dal relativismo non è la ragione ma è qualcosa che non è razionale che quantomeno se non antirrazionale è extra razionale tant'è vero che Pascal scrive il supremo passo della ragione sta nel riconoscere che c'è un'infinità di cose che la sorpassano nella prossima e finalmente ultima lezione vedremo appunto la prospettiva della fede la prospettiva del cristianesimo e della ragionevolezza del cristianesimo perché ragione e fede come ho detto non sono tra di loro in antitesi anche se è vero che la fede è qualcosa di extra razionale arrivederci e grazie 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 grazie